Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi giocheremo a Vlad e Niki 2. Qui c'è questo mondo del dentista. Abbiamo comprato il mondo del dentista. Iniziamo. Guarda Vlad, il mio tante da latte si è allenato, allentato e fa male. Dobbiamo estrarlo. Ah, il dentista è Vlad. Ma come possiamo fare? Tutti gli strumenti sono andati persi. Non preoccuparti, li troveremo tutti. Allora, adesso è ancora più complicato. Dobbiamo trovare gli strumenti e non le chiavi. Perché non ci sono i lucchetti come in altri capitoli, ma dobbiamo trovare le chiavi. Gli attrezzi. Gli attrezzi. Allora, io vedrei già vicino al camice, sotto la sedia. Il camice? Il camice che c'è addosso Vlad? Eh. Sotto il cappello? Niente. Il quadro. Niente. C'ha tre stelle strane. Io non ho mai visto che da un dentista ci sono le stelle. Fazzoletti a gugu. Apri la macchina per sterilizzare. Wow! Le chiavi. E perché? E dove le dobbiamo vittere? Vabbè, prendi. E questo è il magico gioco degli intrecci. Tutte le palline arancioni nella freccia arancione. Vici i verdi nel verde e l'azzurro nell'azzurro. Come potete vedere, è sempre più difficile. E dopo tanti tentativi, forse ci siamo. Gira. Sì! Ok. Le forbici. Le forbici ci sono. Qua. Ma chiama? Poi? No. No. Allora, la sorellina fa l'assistente del dottore. Il numero, non lo sappiamo. Non lo sappiamo che di chiamare. E la spazzatura. Un coltello. Un coltello. Che si fa col coltello? Da dentista. Non si sa. È il bisturino, non è il coltello. Poi c'è. Mamma mia, quante cose? I peluche. C'è anche il letto. E le scatole. Ma che? Sta morendo qualcuno. Ma qua c'è una persona. Ci devi dare i vestiti? No. L'acqua ci può stare perché dal dentista ci si sciacqua la bocca. C'è Christian. Le stelle. Tira questa stella. Tira. Tocca. Premi. Ti devi spostare con l'immagine. Niente. Questo. Così tante scatole. Mettile qui sopra. Forse. Aspetta. Qua intorno a dei disegni. Qua no. La musica c'è disegno. No. Forse devi mettere nel riquadro. No. Perché dovrebbe farti vedere gli oggetti. E non cammina. Metti un po' d'olio negli ingranaggi. No. Ci avrebbe cacciavite. Cacciavite? No. Vabbè. Poggiamole là. La stella. Un'altra stella. Siamo ritornati al punto di partenza. Qua serve questa sì. La chiave. Proviamo. Questo. Questo. Che è una bomba. Mi sei donata. Una bomba del vecchio. Oh il cacciavite. Hai trovato. Aggiusta le viti dell'ingranaggio. Poi ci devi mettere l'olio forse. Quell'olio. No. No. Svitiamo. Oddio. Che dobbiamo fare? Ci siamo quasi. Gira. Non va. Ah. Ok. È andato. Ora girano. Devi mettere gli altri pacchi. C'è un martello. Il martello. Le cosenze. E quindi? Ce li fa riprendere di noi. Dobbiamo cercare gli attrezzi. Allora. Quest'anno delle cose. delle palestre. È una caramella. Ok. Qui cosa c'è? Qui c'è? Una caramella. Un cetriolo. Un cetriolo. Un ragno. No. Mi sembrava un seme. Un seme. Vediamo qua. Una mela. È un bicchiere. Ah ecco. Adesso poi. Cos'altro devi prendere? Ah no. Lui voleva bere. Lo devi mettere là. Qua. Doveva riempire. Riempiamo il bicchiere d'acqua. E lo andiamo a portare a Nick. Era ghiacciata. Ah. Doveva fare calda. Le ha dimischiare. Le hai fatto congelare. Un po' calda. Fai due con quella calda e due con quella fredda. Vediamo un po' che dice. Se gli sta bene. È ancora fredda. E la faccio tutta calda. Che ti devo dire? Che vuole un tè? Vabbè. Vediamo se gli va bene. Eh va. Allora fai tre caldi e un freddo. Tre spruzzi di acqua calda e uno freddo. Vediamo se gli basta. Sì sì. Grazie. Termometro. Ok. E qualcuno ha la febbre? No. Lo devi aggiungere in quel pannello. Ah. Vedi? Ecco qui. Vediamo se... Wow. Lo stetoscopio. Ora qua stavano delle cose. Vediamo un po'. Il martello. Il martello ci ha dato. Poi? Nell'altro pacco. Tocca un po'. La mela. No. 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 L'ultimo. E... No. Niente. Ok. Quindi abbiamo trovato il martello. Il martello. Vado dal dentista. Che fa? Prendi il martello. Ti dà il martello. Ti dà il martello. Ti dà gli studenti. Ti dà gli studenti. Ma quello per le ginocchia. Dal dentista. No. Vabbè. Lì ci stava l'ossettoscopio. L'ossettoscopio. Ok. Ci può stare. E questo qua dietro? No. Vabbè. E questa è la mamma. Metti la maglia. E forse gli devi dare l'asciugamano. Niente. Dal cassetto nascosto. Questo. Abbiamo trovato un cerottino. Un cerotto. Uno. Quindi per farlo. Eh. Perché tu. Sei molto giovane. Si fa. Tre. Due. Sette. Cinque. Uno. Visto? Perché questi erano i telefoni. Di quando io ero giovane. Questi sono le pillole. Le pillole. Pilloline. Ci manca la pinza. Questo era il numero di telefono. Ho visto. Ho visto qualcosa coniglia. Forse dobbiamo fare le due onde della stessa misura. Vediamo se va. Niente. Ci proviamo e riproviamo. Ma non sappiamo se va. Ce la faremo. Troppo strette? Un po' più larghe? Vabbè. Però sono giusto adesso. E' una stampante nella quale dobbiamo inserire un foglio da dare a questa bambina insopportabile. Di cui c'è andata una penna. Che cos'è? Una stringa. Ma tra cui dobbiamo ancora trovare delle cose impossibili da fare. Non c'è giù. Lui ci dice le lettere. Noi le dobbiamo toccare. Tocca la G. Poi. Lo dici. La E sul lettino. Poi ci ha fatto impazzire. Torna indietro. Dall'altro lato. Vicino alla bambina. Vicino alla scrivania. Poi. Poi. E poi. Torna indietro. Tocca dove sarà essere. I locali. Finalmente. E finalmente ci ha dato questa famosa. Dovevamo allineare per bene. Per bene. Vedete. Lui l'avevamo fatto. Ma non così perfettamente. Centimetro millimetro. Ok. Quindi aggiungiamo le pinze. Alleluia. E. Evviva. Abbiamo recuperato gli strumenti. Vediamo che succede. Grazie Vlad. Così va molto meglio. Se vedete. Gli ha tirato un dentone. Lasciamo il link del gioco. In descrizione. Mi raccomando. Se volete iscrivetevi. Lasciate un like. Attenzione. Una campanellina. Condividete i vostri video. I nostri video. Con i nostri amici. E ciao.